Il paese in stato d'emergenza e che per una settimana assume il governo del comune più meridionale della bassa tesina. Benvenuti a Salono, al carnevale del Percheo. Vi invito a partecipare alla sfilata e a tutti un buon proseguimento. Percheo è il nano Clemens Pankert nato a Salorno nel 1702. Da prima costruttore di bottoni, poi dal 1720 giullare alla corte del principe elettore di Heidelberg, Carlo III Filippo. Ben presto divenne maestro di corte e coppiere nonché custode della celebre grande botte del castello di Heidelberg che aveva la capienza di circa 200.000 litri. Quando lui andava fuori in Germania a Heidelberg a fare la sua carriera e la gente gli chiedeva vuoi bere ancora un bicchiere di vino? Lui rispondeva alla bella Salornera perché no? E da lì hanno storpiato poi il nome perché no e è venuto fuori Percheo. E da lì il soprannome è Percheo. Percheo è stato ritratto in diversi modi come personaggio immaginario tra questi ad esempio il Victor von Schaeffel che riprese la canzone umoristica Percheo in una raccolta di canzoni di Heidelberg e anche a Salorno si è composta una canzone in suo onore. Ogni due anni Percheo onora Salorno con la sua visita. Il giovedì Grasso riceve in consegna dal sindaco le chiavi del comune e rimane alla guida del paese fino al martedì Grasso. Il momento culminante della sua reggenza è rappresentato dalla grande sfilata che ha luogo il sabato di carnevale. La sfilata di sabato ovviamente è la cosa più triunfale che facciamo e c'è il giullare Percheo che viene in paese finalmente e tutte le vecchie maestranze del paese come i bottai, come qualche volta anche un po' di trattori ci vogliono, ci sono i bracconieri, ci sono le lavandaie, ci sono un sacco di gruppi che finalmente sono contenti per glorificare il suo nano, il loro nano Percheo. Percheo sfida Per Salorno con tutto il suo seguito composto dal suo coppiere e dai suoi medici personali, dai carbonai, lavandaie, pescatori, bracconieri, fino al distillatore e al cantiniere. Non manca proprio nessuno. E' dal 2009 che Percheo anima il carnevale a Salorno, in dialetto è il carnevale del Percheo. 2008 ci siamo incontrati insieme con noi amici sul carnevale di Termeno a Leggetmo nel martedì grasso e siccome andavamo sempre ogni anno in questo gruppo su perché ci faceva tanto un carnevale tradizionale come Termeno, ci siamo decisi lì mettendoci in un cerchio che è dire adesso fondiamo un nuovo carnevale tradizionale a Salorno e abbiamo fondato Percheo Zmaschera col senso di riportare il carnevale tradizionale della bassa tesina di nuovo a Salorno perché esiste anche un protocollo dell'Egetman di Salorno del 1903 per esempio e fino a lì questa tradizione è sempre stata fatta e così noi abbiamo cercato di prendere la tradizione di tutta la bassa tesina ma scambiarla e mettere Percheo in posizione come giullare di corte che con la sua storia che ha si presta benissimo a fare un carnevale storico la figura di Percheo unisce tutti e tutto passato e presente leggenda realtà ma soprattutto un intero paese che preso dalla febbre del carnevale del Percheo celebra un'usanza ancora viva e partecipata in martedì grasso Percheo fa ritorno ad Heidelberg ma il suo ricordo resta nel cuore dei suoi concittadini fino al ritorno due anni dopo spero che vi sia piaciuto il Percheo Zumzug al Salorno e spero che fra due anni qualcuno di voi ripassi a guardarlo e festeggiare con noi e poi